Saranno 15 anni che non me ne andavo dalle Hawaii. Qui fa piuttosto freddo e lo smog mi dà un po' fastidio, ma sono emozionato e un po' nervoso. In passato i medici mi hanno detto che sarebbe sparito, ma nessuno se n'è mai occupato e spero che lo faccia la dottoressa Lee. Accomodati pure, la dottoressa Lee sarà subito da te, ok? Ok, grazie. Questa escrescenza ostacola la mia vita quotidiana e sarei contento se dopo cinque anni potesse finalmente sparire. Ciao, come andiamo? Piacere di conoscerti. Sono la dottoressa Lee, benvenuto. Eric, dico bene? Grazie, Eric, sì. Sì. Da dove vieni? Maui. Alle Hawaii, ti abbiamo portato in un clima più freddo, eh? Benvenuto. Grazie. Allora, che succede? Ho un lipoma sul sedere. Sai per certo che si tratta di un lipoma, davvero? Sì, sì, sì. E da quanto tempo ce l'hai? Da circa cinque anni. Sembri a tuo agio, non vedo niente. Sì, me la mostro. Oh, ok. È una bella escrescenza, ti fa un sederone. Sì, esatto. È enorme. L'hai fatta vedere ad altri medici? Sì, la mia dottoressa mi ha dato delle pillole e ha detto che sarebbe sparita. Pillole? Sì. Che tipo di pillole? Dovevo prenderne dieci il primo giorno, nove il secondo, poi... Oh, il prednisone. Ha pensato che fosse un'infiammazione? Era davvero rosso e irritato? No, no, no. Era solo gonfia, sì. E non ti ha fatto niente. Allora, nessuno si è mai offerto di rimuoverlo? No. Finché non lo vedo, non so se potrò rimuoverlo. Ma credo sia meglio se gli do un'occhiata dentro, perché qui fa freddo e ti gelerà il sedere. D'accordo? Giusto, va bene. Fra un po' manderò le mie ragazze a chiamarti, ok? Certo, sì. È stato bello conoscere la dottoressa lì. È quasi come se fosse una huaiana. Ha lo stesso atteggiamento ed è molto gentile. Bene, Eric, puoi venire dentro. Ok, è più bella di persona. No. Bene, qui dentro fa un po' più caldo, vero? Sì. Diamo un'occhiata alla tua escrascianza. Preferisci indossare un camice o riesci a... Ok, un secondo che indosso anche i guanti, scusa, permesso. Accidenti! Visto com'è grossa? Hai davvero un bell'amichetto rispetto al sedere che è piuttosto piccolo. Sì, lo so.